Ivex 2017 siamo allo stand, anzi al micro stand di FAS International e siamo con il suo titolare Luca Adriani. Luca buongiorno. Buongiorno a tutti. Che cosa presentate in questa due giorni romana Ivex, la European Vending Experience? Visto gli spazi ridotti abbiamo cercato di concentrare con una pillola sostanzialmente di tecnologia la nostra gamma FAS che è molto più ampia. Abbiamo presentato i due prodotti snack and food e un distributore di bevande calde equipaggiati con i touch screen su piattaforma Android per cui un condensato effettivamente della nostra gamma 2018. Qual è la tua visione rispetto al vending che sta cambiando perché tecnologicamente è sempre più avanzato, sempre più vicino alle esigenze dei consumatori con al tempo stesso le tecnologie prese in prestito dall'industria, talvolta addirittura dall'aerospazio. Certo. Sì, tecnologie utili nel senso che abbiamo visto nei due interventi di ieri che sempre più si pone attenzione al consumatore e si studiano poi i meccanismi che portano poi alla vendita, all'acquisto poi da un distributore automatico. Per cui i costruttori si devono porre come dei partner tecnologici per arrivare poi al fine che è quello di fare acquistare dal distributore dei prodotti o dei servizi in una maniera sicura con ampie garanzie per il consumatore. Per cui direi tecnologia a servizio degli operatori ma soprattutto a servizio del consumatore. Grazie Luca. Noi avremo modo di vederci a Venditalia 2018. Senz'altro. Senz'altro. Nel corso della... Eh, mi sa proprio di sì. Grazie. Ciao. E allora, grazie nel frattempo amici, non andate via, noi continuiamo a scoprire altre novità ricordate e presentate qui a IVEX 2017. Grazie, buona giornata.